È uno spettacolo sorprendente per tanti aspetti, soprattutto per il coinvolgimento del pubblico. Ormai dal nostro debutto si conta una presenza costante di uomini e donne emozionati ed emozionanti che vengono ad assistere al nostro spettacolo, a sedersi a tavola accanto ai nostri attori, a respirare le emozioni, le risate, le riflessioni di un'intera famiglia nel corso di cinque generazioni. Saremo fino al 10 allo spazio polivalente di Via Zurria e poi dal 15 al 18 al castello di Leucatia. È un'autobiografia collettiva che ci fa tanto sorridere e tocca le corde del nostro cuore. Il lungo pranzo di Natale.